Votando è arrivato il momento di conoscere, ma adesso, con chi canta? Paolo Vallesi, Codice 04. Scopriamolo insieme. Grazie, grazie, Orgenda. Oddio. Ciao, ciao, ciao. Paolo Vallesi, ma dove sei stato tutto questo tempo? Si è aperta la porta ed è entrata Ornella Vanoni, cioè è entrata Ornella Vanoni. Paolo era un ragazzo molto carino e ancora un uomo carino. Ma cosa è successo? Perché una persona che ha fatto delle canzoni molto belle, a un certo punto non va più avanti. Penso sempre che sia sempre merito e demerito mio delle cose, se delle cose non hanno funzionato forse ho anche fatto degli errori. Senza musica non si può fare niente, niente, né un film, niente si può fare senza musica, niente. Per esempio ho avuto per anni un produttore meraviglioso, che era Bardotti. Bisogna avere vicino uomini che volano in alto. Assolutamente. Se no è stata molto fortunata avere un uomo come lui. E io penso di essere stato molto fortunato oggi a poter avere la possibilità anche di interagire con te. Come diceva Benicio Zimoraes, la vita è l'arte dell'incontro. Io ho pensato di fare con te, se ti va, la musica è finita. La musica è finita. Che è di Bindi Califano. Ho pensato due cose, che onore poter cantare con lei e che responsabilità. Mi ricordo che questa canzone io l'ho fatta allora, perché si usava a fare così, cantare, divide la canzone in due personaggi. E allora io ho rietto aperti. Le nostre due voci possono anche unirsi in modo bello. La sua limpidezza e la mia, che in realtà è una voce un pochino più ignorante, più graffiata. Adesso ci vorranno le divisioni giuste, le tonalità giuste. Adesso con l'Ornella, come team, secondo me siamo un bel team. Daremo del filo da torcere a tutti. Insomma, venderemo cara la pelle, come si suol dire. Magari sei più bravo tu di me. Questo è impossibile. Ci siamo. Codice 04 per Paolo Vallesi, quindi il nostro quarto cantante in gara, la quarta esibizione. Siamo nel 1967, quarto al Festival di Sanremo. Tra gli autori del brano, Franco Califano e Umberto Bindi, due geni della musica, due grandissimi autori. È un classico della canzone italiana. Insomma, uno dei grandi pezzi, uno dei pezzi veramente che fanno la storia della musica italiana. E quindi la musica è finita. A ora o mai più. Va bene, però mi fa piacere che sono stati gli autori a dirmi, vuoi fare la musica finita? Sì, perché Bindi non va dimenticato. Bindi aspettò delle canzoni meravigliose. Perché era un grandissimo. Perché era un grandissimo. E Califano era un amore bravissimo. Poi bello, bello come il sole. Allora, posso dire una cosa? Certo. Io a te l'avevo dato 10. La canzone da solo? Quando non capivo che l'avevo votato. Ah, ok. Adesso invece loro dovranno votare l'interpretazione di, certo, di Vallesi, ok? Non di Ornella, ma di Vallesi. Quindi, la musica è finita. Paolo Vallesi in gara con il codice 04 insieme a Ornella Vanoni. Paolo Vallesi in gara con il codice 04 insieme a Ornella Vanoni. Ecco la musica è finita, gli amici se ne vanno. Paolo Vallesi in gara con il codice 04 insieme a Ornella Vanoni. Ma ho aspettato tanto per vederti, ma non ho servito a niente. Niente, nemmeno una parola, l'accento di un saluto. Ti dico a rivederci, amore mio. Nascondendo la malinconia sotto l'ombra di un sorriso Cosa andarei e sentiti a me? Cosa lo farai e c'è questo nome? Viventi per te più forte che mai Ecco, la musica è finita, gli amici se ne vanno E tu mi lasci solo più di prima Un minuto è lungo tra morire se non hai vissuto insieme a te Non buttare via così la speranza di una vita da voler Un minuto è lungo tra morire se non hai vissuto insieme a te Non buttiamo via così la speranza di una vita d'amore Per il televoto codice 04 per Paolo Vallesi